Vlaovic, il compagno dice, vuole tenersi vicina la Juventus. Benvenuti nel canale. E se ami la Juventus e vuoi rimanere ben informato sulla Juve, iscriviti al canale e clicca il campanello in modo da non perderti nulla. La partner di Dusan Vlaovic, Miss Italia eletta modello nel 2019, Carolina Stramare, durante un'intervista con Tutto Sport, ha parlato del momento che l'attaccante serbo sta vivendo alla Juventus e del recente stop forzato a causa della pubalgia. Queste sono le sue parole in dettaglio, Dusan è un momento che probabilmente non doveva venire. Ha avuto grandi successi a Firenze e quando è arrivato alla Juventus si è visto vivere una nuova realtà, diversa da quello che probabilmente non si aspettava. Durante la notte, si ritrova a Torino, giocando per la Juventus. La sua vita è stata sconvolta. Ho visto il cambiamento in pochi giorni. Lo presero a Firenze e lo trasportarono a Torino con i tifosi della Fiorentina che cercavano di ucciderlo. Pubalgia? Prima ne soffriva, ma non ci pensa nemmeno. Vuole sempre dare di più perché è serbo, è duro. Ci tiene molto alla Juventus. Lo ho sempre invidiato in molti modi. Invidio la sua concentrazione, il suo desiderio di raggiungere il suo obiettivo al lavoro. È molto grato per quello che ha ottenuto. La Juventus vuole resistere.